Via libera dall'Aggiunta regionale al piano degli interventi relativi alla legge 3 del 2012 per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere redatto dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Il documento individua in sei linee di azione le priorità, i criteri e le azioni per la realizzazione degli interventi riguardanti le politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento della vittima ed anche attuazione per quanto di competenza al piano nazionale straordinario contro la violenza sessuale di genere. L'Aggiunta ha inoltre indetto le elezioni amministrative per il prossimo 11 giugno con ballottaggio il 25 giugno e ancora stanziato ulteriori 36 milioni di euro per interventi sulla viabilità statale da realizzare con ANAS mediante APQ viabilità. Aggiornato il piano regionale rifiuti speciali, già passato nelle commissioni di merito all'ARS, approvato le tabelle di esercizio provvisorio. Il presidente della regione e l'assessore alla famiglia Mangano comunicano che l'Aggiunta ha approvato una deliberazione con la quale si autorizza l'immediata erogazione ai distretti sociosanitari di 62 milioni di euro, anticipandoli dal fondo non autosufficienza 2016 e 2017, non ancora trasferito da parte dello Stato. Con questa implementazione i distretti potranno cominciare a realizzare i programmi a favore delle persone con disabilità in modo anticipato rispetto agli altri anni. Tali somme, ha detto Crocette, si aggiungono ai 36 milioni in corso di impegno. Ulteriori 34 milioni verranno trasferite agli enti locali dopo l'approvazione della finanziaria per l'assistenza ai disabili. Per il 2018 e il 2019, conclude il presidente, lo stanziamento complessivo sarà invece di 240 milioni circa ogni anno.